di trotto, ma a velocità lanciata la prende Riccardo Zamora al comando, di slancio c'è in avanti Roger RL, Riccardo Zamora che lungo i birilli cerca la corda, con Record Rock che insiste a largo anche Ranja dei Fiori, l'errore di Real B-Power in avanti è proprio il numero 2 di Record Rock ma Roger RL che insiste, Record Rock che rientra in maniera piuttosto decisa, Roger RL che passa al comando su Record Rock, poi Riccardo Zamora poi ancora Ranja dei Fiori Riccardo Zamora che ora prova l'attacco deciso a Roger RL passa Riccardo Zamora, poi ancora Record Rock quindi il numero 6 di Ranja dei Fiori dispersi sono Real B-Power e Ranja dei Fiori e Ruggiato SMS, Ranja dei Fiori che viaggia in quarta dietro il numero 2 di Record Rock quartetto staccato da Real B-Power che ha provato a ricucire il gap in avanti è il numero 1 di Riccardo Zamora poi Roger RL, Record Rock che ora prova a venire via quindi Ranja dei Fiori, ancora Real B-Power che viene da una rottura Riccardo Zamora che prova a sfuggire ma Record Rock che viene via in maniera piuttosto decisa anche Ranja dei Fiori quindi Riccardo Zamora, Record Rock, ancora Ranja dei Fiori in avanti Riccardo Zamora, Record Rock sempre dietro ci prova Record Rock ad attaccare Riccardo Zamora ancora Ranja dei Fiori, poi Real B-Power in avanti Riccardo Zamora ma Record Rock che prova ad attaccare a fondo il battistrada che reagisce, cerca di scappare via Riccardo Zamora viene via Ranja dei Fiori, quindi Riccardo Zamora che prova ad allungare ma Record Rock che attacca a fondo Riccardo Zamora Ranja dei Fiori a centro pista, Ranja dei Fiori che chiude la partita e viene a vincere su Riccardo Zamora che è secondo, terzo il numero 2 di Record Rock Ranja dei Fiori, vince questa corsa abbastanza bene fa gli ultimi 400 metri in mezzo alla pista vince alla grande per i colori del signor Davide Morello in training a Biaggolo Verde Gaspare che vince questa corsa secondo è Biaggolo con Riccardo Zamora accoppiata di scuderia al terzo posto Record Rock Grazie a tutti